Due settimane di ritardo rispetto ai compagni di squadra non fanno la differenza per chi, come Andrea Bari, ha avuto un'estate tutt'altro che tranquilla tra World League e Olimpiadi. Per questo il libero della diate che degli azzurri è stato buttato direttamente nel gruppo da Mr. Stoicev. E' emozionante come tutte le volte che si ricomincia. Ho rivisto i compagni che c'erano l'anno scorso, anche i nuovi. C'è sempre grande entusiasmo. Poi vedere il Trentino con questo clima, questo caldo, è un po' strano. Seppur dopo sette stagioni in giallo-blu, che fanno di Barretto il veterano del gruppo, l'emozione a tornare al Palatrento è sempre viva. La medaglia a cinque cerchi non ha cancellato l'amarezza per quello scudetto scippato al tie-break da macerata. E' Bari, per questa sua ottava avventura in maglia diatec, tra i tanti trofei che spera di mettere in bacheca, punta il dito con più determinazione proprio sul tricolore. Chiaramente sono tutti importanti, però magari se quell'ultimo trofeo riusciamo a tirarlo su, l'anno dopo che si perde lo scudetto è sempre molto... brucia, brucia molto. E poi è l'ultimo trofeo e quello che ti rimane di più. La squadra va quindi completandosi agli ordini di Stoice-Vesserniotti. Martedì 4 settembre tornerà in via Fersin e Emanuele Birarelli. A metà mese poi anche Stokre-Giuric, ancora impegnati con le rispettive nazionali per le qualificazioni europee in vista del 2013.